Ecco, maresciallo, queste sono le foto dell'archivio del Vescovado. Sua eccellenza il Vescovo mi ha incaricato di collaborare con voi. È il primo crocifero dell'arciconfraternita dei fedelissimi del Sacro Cuore di Gesù. Si vede poco, sono tutte sfocate. E se avesse trovato posto sul treno dei pellegrini diretto all'Urte? Va bene, e poi? Lui trascorreva sempre tutte le sue ferie all'Urte. Ritrovate il mio figlio! Sì, vanno, non mi aiuti. Oh, desiderate? È una faccenda riservata. Stiamo cercando la persona che siamo stati informati e ospite qui da lei. Sia comodi di qua, da questa parte. Il signore gliene renderà merito. Lo vado a chiamare, deve venire via con noi. Ma chi è? Don Remigio! Non ho capito la domanda. Lei ha perso la memoria, oppure le fa comodo non ricordare. Lei è un sacerdote. Lei è Don Remigio Reggiori, viceparroco di San Eudichiano, di Ocesi di Varese. Uè ragazzi, non diciamo stronzate, eh? È così. E io sono il suo parroco. E che Dio l'aiuti. E ora si rivesta subito, padre. Noi l'aspettiamo giù in strada. Noi l'aspettiamo. Noi. Noi. Noi.